Vittoria per il Vicenza, oggi al Menti contro la Pergolettese, una partita sofferta ma alla fine l'Ane ce l'ha fatta. Marco Rabito, a te la linea. Dici bene Anna, è stata una partita molto complicata ma che il Vicenza è riuscito in qualche modo a portare a casa. Portiamo a casa un sorriso, portiamo a casa soprattutto tre punti preziosi per la nostra classifica. Primo tempo che vede il nostro Lane in leggera difficoltà con una formazione un po' rivista da mister Diana. Con la Pergolettese che partendo dal basso ci mette in difficoltà con i loro fraseggi. Infatti sono cinque i cartellini gialli alla fine della gara che finiranno sulle spalle dei giocatori biancorossi. Nel secondo tempo riusciamo a sbloccare la gara grazie a Della Morte che è stato uno dei più positivi di oggi. Trova Costa in area di rigore, atterrato c'è calcio di rigore, lo trasforma ancora una volta con freddezza e loco Ferrari. Dopo il gol entrambe le squadre giocano in maniera diversa. Anche la Pergolettese spinge un po' di più sull'acceleratore lasciando spazio a qualche ripartenza del Vicenza. Sono però pochi gli interventi da parte dei due portieri. La partita giunge al novantesimo con il Vicenza che per l'ennesima volta chiude la gara con zero gol subiti. Un dato molto importante per chi vuole fare un campionato da vertice. Grazie.